Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Lisa e oggi siamo di nuovo qui per una video recensione. Chiedo perdono per la luce terrificante, peggio di altre volte, e soprattutto per l'aspetto da scappata di casa, ma se mi seguite su Instagram sapete un pochino che io nelle ultime settimane non è che sia stata benissimo. Non ho avuto influenze o cose, ma semplicemente non avevo neanche voglia di alzarmi dal letto, avevo l'umore completamente sotto alla sola delle scarpe e oggi mi sono costretta ad alzarmi e a fare qualcosa di molto più produttivo, ma in realtà ancora sono un po' così. Non avevo neanche tantissima voglia di fare le recensioni, non avevo voglia di fare chissà che cosa, ma insomma, sorvoliamo. Oggi siamo qui, il motivo vero di questo nostro incontro youtubiano è questo libro qui, Il mostro della memoria di Isha Isarid. Giusto? Isha Isarid, perfetto. Un autore, per me totalmente nuovo, è la prima lettura che affronto per quanto riguarda la tematica della Shoah e comunque più in generale della questione della memoria dopo tanti anni, perché diciamo che era un tema che mi aveva un po' stufato, perché a scuola ti subissano di film, letture, interviste, incontri. Io ho incontrato nella mia vita ben due volte lì a Levi, ho avuto l'onore e l'occasione di porle anche delle domande, mi ricordo quando eravamo in quarto superiore, tutte esperienze molto importanti, ma diciamo che ero un po' satura. Perché mi sono avventurata in questa lettura, sebbene tratta di un argomento che per quanto mi riguarda è, diciamo, non noioso, però ho superato, insomma, quella fase in cui voglio leggere tante di queste cose, perché qui ci viene offerto un punto di vista totalmente differente sulla questione ebraica, vista secondo me in senso un po' più generico, vi spiegherò poi perché, ma in particolare appunto un punto di vista diverso per quanto riguarda la memoria, e di fatti il titolo è proprio il mostro della memoria. Quando la memoria di un evento si trasforma in un mostro, la prima cosa che ci può venire in mente è quando questa memoria diventa così pesante, così opprimente da non volerne più sentir parlare, che è un po' quello che era successo a me. Cioè, tutti quei racconti della guerra, della fine della guerra, degli ebrei portati via, dei vicini di casa portati via, dei conoscenti, dei parenti, dei non fascisti. Ecco, io sono vissuta in un clima pieno di questo, dove si facevano un sacco di racconti, un sacco di cose, e devo dire, ero arrivata un po' al punto che questa memoria su di me aveva avuto proprio l'effetto, una sorta di fattore bound, cioè di rifiuto totale verso l'argomento. Qui invece la prospettiva era totalmente diversa. Vi racconto in breve la trama, anche se va detto che questo è un libro, che in realtà una trama non ce l'ha. Non ha una trama perché l'autore ha deciso di far parlare il nostro protagonista tramite appunto un flusso di coscienza con l'espediente di questa lettera scritta al presidente, lo devo leggere, perdonatemi, al presidente dello Yad Vashem, spero di averlo pronunciato bene, che dovrebbe essere appunto l'istituto per la memoria dell'olocausto. Allora, questo racconto è in prima persona, il nostro protagonista è in qualche modo spersonalizzato, poiché non ci viene detto neanche come si chiama. È un ebreo che non ha nessuna voglia di studiare la Shoah, non ha nessuna voglia di parlare della Seconda Guerra Mondiale, dell'olocausto, vorrebbe fare tutt'altro. Per una serie di circostanze si trova invece a dover studiare, e anche a fondo, i campi di concentramento, che diventano appunto il suo campo di studio, il centro della sua vita e della sua carriera. Tutto va talmente bene che ad un certo punto lui viene, tra virgolette, utilizzato per gestire conferenze, va a fare la guida turistica, addirittura diventa consulente esterno per un videogioco, una sorta di realtà virtuale basata appunto su fatti storici, come appunto l'olocausto, e addirittura alla fine del libro lui verrà chiamato come consulente per un regista che deve girare un video, un video, deve girare un film su questo avvenimento storico. Tutto procede piuttosto linearmente, ma noi già dalle prime pagine capiamo che il nostro protagonista non andrà lontano, perché il punto di rottura è dietro l'angolo. Di fatti lui per tanto tempo farà la guida turistica nei campi di concentramento in Polonia, dapprima a scuole, quindi si trova a confrontarsi con dei giovani ebrei che sono un po' appunto la nuova generazione, quello che alla fine lo preoccuperà un po' di più. Dovrà poi accompagnare anche personalità di spicco, militari, e infine, quando la sua carriera a un certo punto sembra prendere una piega negativa, accompagnerà addirittura dei gruppi turistici di persone comuni. Tutta una serie di avvenimenti, tutta una serie di osservazioni fatte, soprattutto da questi ragazzi delle scuole, lo porterà a vedere l'olocausto e appunto il concetto di memoria in maniera completamente diversa da quella che lui aveva fatto fino in quel momento. Di fatti lui cerca per tutto il libro di mantenere una sorta di distacco e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché non c'è mai l'intento di fare pietà, di fare compassione, di parlare del popolo ebraico in termini proprio pietistici. No, c'è un'analisi lucida di tutto quello che è stata la situazione basandosi su delle fonti concrete e reali. Questo l'ho apprezzato molto perché un po' tra le righe ci viene detto, ma non troppo, che comunque gli ebrei hanno avuto una loro parte di responsabilità per quanto riguarda lo sterminio. È una cosa molto dura da dire, è una cosa molto difficile da veicolare secondo me. Invece l'autore ci è riuscito benissimo perché è riuscito a farci capire perfettamente e è riuscito la questione facendoci provare anche dei sentimenti disturbanti, no? Sentimenti disturbanti come quelli che lui stesso prova ma che provano anche i militari o gli studenti di fronte alla potenza dell'impero germanico. Infatti c'è una sorta di venerazione ad un certo punto, si parla di invidia nei confronti dei tedeschi. Addirittura c'è un ragazzo che durante l'incontro serale in cui parlano un po' di come è andata la visita, eccetera, questa persona dice noi siamo stati deboli, diciamo che le vittime un po' se la sono cercata, che è quel modo di pensare a totalmente assurdo, no? E dice se fossero stati più forti, se avessero avuto la capacità di stringere il pugno e colpire, ce l'avrebbero fatta. E si insinua un po' a questo tarlo, no? Il tarlo che forse gli ebrei avrebbero potuto fare qualcosa e si insinua, non troppo velatamente anche in questo caso, l'idea che per quanto riguarda l'attuale questione israelo-palestinese sia corretto l'utilizzo di questa forza smodata che l'esercito israeliano adotta contro appunto la popolazione palestinese. Perché ho detto esercito e popolazione? Perché se un pochino conoscete l'argomento, anche solo per aver sentito qualcosa al telegiornale, saprete benissimo che lo Stato israeliano, lo Stato di Israele ha un esercito potentissimo, hanno i servizi segreti, il Mossad, i più potenti praticamente al mondo, mentre il popolo palestinese è un popolo che non ha assolutamente lo stesso livello in termini anche di esercito, eccetera, perché non esistono fondamentalmente, no? Non hanno nulla, non hanno le stesse capacità belliche appunto degli israeliani. E in questo libro si riflette un pochino anche su questo, cioè la memoria avrebbe dovuto insegnare alle nuove generazioni, a noi, a quelle che verranno, a quelli che sono venuti subito prima di noi, avrebbe comunque dovuto lasciare come eredità l'idea non tanto della compassione, ma del non ripetersi. Io ho vissuto tutta la mia vita studiando, leggendo, ascoltando le storie dei miei nonni e quello che mi arrivava, perché loro cercavano di farmi arrivare questo, era che quella cosa non si sarebbe mai dovuta ripetere. Qui invece la memoria diventa mostruosa appunto, schiaccia i giovani, schiaccia gli eserciti, corrompendo un po' la realtà e mostrando la faccia della medaglia di quelli che si sono stufati, anche perché fondamentalmente gli ebrei sono un po' il popolo perseguitato per eccellenza. E questo, secondo me, appunto, ha generato questa voglia di adesso prevalere, perché storicamente gli ebrei vengono descritti anche come un popolo mite, mentre la realtà dei fatti, l'attualità, ci dice ben altro. Un altro punto di vista interessante, oltre a quello che fa appunto un parallelismo tra quello che la memoria avrebbe dovuto lasciare e quello che invece lascia rapportato anche ai fatti odierni, dove è palese, gli ebrei sono passati dalla parte del carnefice, no? E' evidente anche il nostro protagonista a un certo punto dice ho invidiato la forza dei tedeschi, no? Che sono stati capaci di imporsi, di imporre la loro forza e le loro idee. E questa è una cosa anche pericolosissima, no? Perché ci sono dei risvolti anche particolari. La cosa che ho trovato anche interessante è il fatto come appunto ad esempio i turisti, la gente comune che va in vacanza in Polonia o da qualunque altra parte magari cerca di inserire nell'itinerario il viaggio, il famoso viaggio della memoria, il viaggio ad Auschwitz. Ma una volta arrivati lì le persone non sono pronte o comunque non lo prendono nel giusto modo. e questo rende la memoria mostruosa, questo la rende pericolosa e brutta, anche se forse brutta non è il termine adeguato. Il nostro protagonista alla fine scoppia, non ce la fa più. Non ce la fa più a sentir dire che è giusto uccidere qualcun altro per imporsi. Non ce la fa più a sentire i visitatori che non ce la fanno. in un punto dice non erano i vostri antenati, potevi essere preparato, potevi lasciar perdere, potevi evitare, cioè a un certo punto tutta la sua rabbia esplode. E mi è piaciuto anche il punto di vista, anche qui molto chirurgico, molto lucido, molto scomodo, del fatto che gli ebrei in qualche modo abbiano agevolato il lavoro dei tedeschi o comunque che non abbiano provato a reagire. Perché qui ad un certo punto si parla proprio di questo, del fatto che nel momento dell'olocausto, quindi nel momento in cui queste persone venivano portate nei vari campi di concentramento, spesso, capitava spesso, che numericamente questi deportati fossero superiori, proprio di numero numericamente, rispetto ai soldati. sebbene disarmati, la riflessione del nostro protagonista è proprio questa, ok, eravate disarmati ma eravate in un numero nettamente superiore, avreste potuto provare a fare qualcosa. E un'altra riflessione che ci fa appunto l'autore è su quelle figure un po' strane, un po' ambigue, che sono i capò, ossia degli ebrei che aiutavano i tedeschi a compiere l'olocausto. E fondamentalmente era quello. All'inizio lui ci parla di queste figure un po' anche in termini di comprensione, perché dice, ok, io li aiutavo nella speranza di potermene andare, di potermi salvare, di poter salvare la mia famiglia, o magari essendo pienamente consapevole di quello che stava succedendo. Poi i termini in cui parla di queste persone cambiano un po' e si comincia a sentire da parte sua la rabbia, la rabbia di chi vilmente ha preferito collaborare con il nemico piuttosto che salvare la sua la sua famiglia intesa come connazionali, correligionari, eccetera. E di fatto a un certo punto lui dice non esiste unione tra noi, non siamo in realtà uniti, perché non ci siamo mai aiutati. Molto interessanti queste riflessioni, quest'idea che comunque il popolo ebraico dovrebbe alzare la testa, ma la domanda forse principale che ci viene posta all'interno di questo libro è come bisogna reagire e come bisogna rialzare la testa. È corretto reagire in un certo modo? È giusto per paura di essere noi gli oppressi opprimere gli altri? Insomma, un libro davvero interessante con un punto di vista per me totalmente nuovo rispetto al solito e mi ha fatto venire tantissima voglia di approfondire alcune tematiche proprio legate più all'aspetto tecnico di come è avvenuto l'olocausto a come funzionavano i campi di concentramento. Qui vengono spiegate diverse cose come ad esempio il fatto che alcuni erano campi di lavoro e campi di concentramento oppure alcuni erano esclusivamente campi di concentramento e altri solo campi di lavoro questa è una cosa che già sapevo ma qui viene spiegato molto bene il meccanismo viene spiegato che all'interno dei vari siti non tutte le procedure erano poi le stesse vengono elencati all'interno dei metodi di smistamento delle persone che io personalmente non conoscevo vengono detti dei dettagli ripeto anche numerici anche tecnici che mi hanno molto fatto riflettere mi hanno dato molto da pensare mi sono fatta delle domande e soprattutto mi sono fatta una domanda che non mi facevo da tempo io ricordo quando andavo alle superiori c'era questo professore di geografia che era eccezionale ci parlava davvero di tantissime cose e spesso ci chiedeva cosa ne pensavamo della storia in generale perché insomma lui non manifestava non troppo velatamente il fatto che lui non fosse un grande amante della storia e ci si soffermava a parlare un po' del concetto di storia in sé e ricordo una cosa che lui mi disse che ho ritrovato poi in seguito anche leggendo altre cose o ascoltando altre persone la storia non la fanno i vinti la storia la fanno i vincitori e come si sceglie di raccontare questa storia è fondamentale perché vengono passate tutta una serie di informazioni e vengono cancellate totalmente altre e questo libro mi ha fatto tornare in mente questa domanda questo concetto queste idee e credo che come per tutte le cose ovviamente ci sia di più che una semplice divisione buoni cattivi bianco nero sono convinta che ci sia sicuramente qualche sfumatura che ci sfugge e spesso ci sono delle verità scomode che noi non vogliamo considerare che non vogliamo vedere e invece questo libro un pochino vuole spingerci ad aprire gli occhi e a pensare anche a questo e quindi quello che sono riuscita io a trarre da questa storia è anche di non far diventare la memoria un mostro cioè la memoria deve essere un monito deve essere una guida ma non deve mai schiacciarci e non deve mai diventare un motivo per giustificare delle azioni negative che poi noi facciamo nella nostra vita ecco io vi consiglio assolutamente di leggere questo libro che è uscito quest'anno nel 2019 per me è un libro assolutamente valido scritto perfettamente in uno stile che ho apprezzato tantissimo e soprattutto mi dispiace che non se ne parli tantissimo cioè tra le nuove uscite del 2019 io non l'avevo mai sentito nominare mentre secondo me è una lettura estremamente valida soprattutto se siete interessati a capire un po' di più appunto proprio della memoria ecco se volete fare qualche riflessione in più sulla storia e sulla memoria nulla io vi saluto perché ho parlato fin troppo e niente spero che in qualche modo questa recensione vi sia stata utile mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete mi piace e commentate soprattutto se avete letto questo libro ditemi cosa ne pensate ciao